L'idea di vedere il rapporto tra Italgas e le società di vendita in un'ottica di partnership è un pensiero molto smart e vincente. Vincente non tanto e non solo per le reciproche convenienze aziendali ma anche per il paese, soprattutto nelle zone dove l'utilizzo del metano è ancora troppo basso rispetto al nord, quindi mi riferisco alla Calabria, alla Campania, alla Sicilia, per cui io credo che il raggiungimento dell'obiettivo sia sinergico. Il cliente finale assolutamente in questo momento è il soggetto di questa collaborazione. Il modo secondo noi è la fluidità della comunicazione. Il cliente di fatto ha bisogno di velocità nella risoluzione dei problemi, certezza nella misurazione dei propri consumi, sicurezza nel sapere che dietro una macchina per lui oscura ci sono società che lavorano per risolvere questioni e per rendere la vita facile. Credo che i vantaggi siano tanti proprio perché nelle aree dove il metano ancora non viene così utilizzato c'è bisogno di un incentivo, un incentivo anche in termini economici che viene garantito dalle ottime promozioni che appunto Talgas sta offrendo e anche dall'impegno ovviamente delle società di vendita che seguono questa logica. La partnership tra società di vendita e tra distributori secondo me si concretizza su due piani. Da un punto di vista strategico è molto importante che ci parliamo a livello di management, che abbiamo visioni condivise, che andiamo nella stessa direzione e mi pare dalla giornata di oggi che siamo proprio su questa onda. L'altro punto di vista è quello operativo, per cui ci sono le persone che stanno sul territorio e anche tra di loro ci deve essere tanta collaborazione, devono sentirsi i partner. Grazie a tutti.